Saluto il nuovo pubblico di Strano Paese, questa è la puntata numero zero. Lo studio è quasi pronto, mancano alcuni dettagli, ma di questo probabilmente vi interessa poco sapere. Vi interesserà sicuramente invece ascoltare, noi ce l'auguriamo, è una bella proposta quella di sharing, la prima tv nativa digitale del territorio, la proposta che noi questa sera vi proponiamo. Noi abbiamo il piacere di avere nei nostri studi i due candidati presidenti per il match point della provincia di Foggia, per il pubblico di sharing tv Nicola Gatta e Michele Merla. Questa è la sigla. Su l'asfalto delle tue autostrade, non tutto il sangue si è già rappreso. Verde di chiesa, odore di mare e dolce pietra dal cuore disteso. Spiaggia che muore lì in mezzo al grano, vecchia abineta dal fondo parlanti in una mano. Strano paese, vestito a lutto, strana la gente, strano che tutto sia così strano. Ma questa è l'anima del mio gargalo. Bene, eccoci, grazie per essere in nostra compagnia. Saluto intanto Michele Merla, sindaco in pectore a San Marco in Lamise e saluto Nicola Gatta che è sindaco a Candela, i paesi dove sono nati. Abbiamo anche qui alla nostra, lo vedete, alla mia sinistra, un piccolo campione selezionato con molta cura, devo dire, degli operatori della provincia. a cominciare da Giovanni Dattoli che è uno dei dirigenti e poi ci sono tanti colleghi che ho apprezzato molto perché li ho visti all'opera, al lavoro. Ma non è di questo che vogliamo parlare, la loro posizione è quella di uditori, uditori di quello che potrebbe essere il presidente della provincia di Foggia. Gatta, sindaco da una legislatura, da due legislature a Candela, è imprenditore agricolo, ma non solo. A Candela c'è stato un grande spolvero di bella cultura, soprattutto a Natale, ricordo bellissime cose. Sindaco, questa avventura come nasce? Nasce da una richiesta fatta dai sindaci dei Monti Daoni, dai sindaci dei piccoli comuni, una richiesta fatta alla politica provinciale. Il centrodestra ha accolto questa richiesta, quindi con grande sensibilità, a differenza di altri partiti, ed è la candidatura anche di tanti sindaci civici che non hanno tessere di partito e che vedono in me la possibilità di poter cambiare, di poter far avvicinare alla provincia più i cittadini. Invece Michele Merla è sindaco da una legislatura a San Marco in Lamis, una delle terre più calde del Gargano. Questa candidatura ha un po' un crinale più politico, perché sindaco? Buonasera a tutti innanzitutto. Ha un crinale politico perché noi abbiamo fatto una scelta di coerenza. Il Partito Democratico e alcuni sindaci del centro-sinistra hanno fatto questa scelta di coerenza, nel senso che una volta deciso il candidato del centrodestra, dove appunto tutto il centrodestra, compresa la Lega, si sono messi insieme, noi non potevamo far altro che scegliere un candidato che ha un'identità, l'identità del PD, surrogato e supportato anche da altri sindaci che guardano al centro-sinistra in questo momento. E quindi credo che sia una scelta, io lo ripeto in ogni occasione, è una scelta che è identitaria, perché credo che sia giusto, è opportuno, e non bisogna confondere le regole, nel senso che in questo momento la politica, le amministrazioni hanno bisogno di essere abbastanza coerenti, cioè dimostrare ai cittadini e in questo caso ai rappresentanti istituzionali, quindi consiglieri e sindaci, che bisogna essere coerenti, non bisogna stare tutti insieme per far apparire la politica o l'amministrazione, come in questo caso qualcosa che riguarda solo ed esclusivamente la gestione o come si diceva una volta il potere. Dunque, se ho ben capito, per avere anche praticato un po' e frequentato il palazzo della provincia, diciamo c'è ancora chi crede, e meno male, in questa istituzione. Ambedue i competitor sono convinti che le province debbano rimanere, io li ho ascoltati fuori onda e sono sul piano politico convinti della necessità di mantenere queste istituzioni. Come è possibile rilanciare le gatta? Lei è un uomo del territorio, lavora molto in una delle filiere di prima linea, quella agricola, è un imprenditore agricolo. Come si può immaginare a rilanciare questa antica istituzione, anche se la politica ha al momento declassato gli enti? Sì, quando dicevo che la provincia deve guardare più all'esterno, quindi essere più vicino ai cittadini, cosa che in questi anni purtroppo, ahimè, è stata un po' come d'altronde l'elezione di secondo livello, quindi di tutti noi amministratori. Deve guardare un po' più al territorio. Abbiamo un vulnus grosso, quello della viabilità. Ci sono strade completamente chiuse. Abbiamo il problema dell'edilizia scolastica. Eppure sull'edilizia scolastica si può fare tanto, almeno noi a Candela abbiamo fatto tantissimo. Penso di esportare un po' il modello di quello che è stata, diciamo, la vita amministrativa a Candela in provincia. Con un progetto istituzionale che va oltre anche l'aspetto politico, perché a me interessa poco, interessa a proposito, diceva prima, di filiere, curare una filiera istituzionale rispetto al governo regionale, al governo nazionale. Cercare di poter pensare anche a nuove iniziative, amministrare anche con un pizzico di fantasia, come l'ho fatto a Candela. E quindi non arrivare lì in provincia e sedermi e fare, diciamo, solo l'ordinario. Ma voglio fare soprattutto quello che oggi viene chiamato straordinario. E poi a Candela avete rilanciato anche il ruolo culturale di Palazzo Ripanderli, vero? Assolutamente, sì. Abbiamo fatto tante iniziative nel campo del turismo. Non si conosceva a Candela il significato del turismo. Oggi con il Natale registriamo con quel format tanta partecipazione e tanti visitatori. L'anno scorso abbiamo registrato oltre 60.000 persone, ma non solo, abbiamo lavorato anche nel campo infrastrutturale, quindi la realizzazione in corso, la realizzazione di un terminal bus intermodale vicino al casello autostradale, uno dei più importanti snodi autostradali. Abbiamo realizzato un incubatore di imprese, abbiamo puntato molto sull'infrastruttura sociosanitaria, abbiamo avuto rapporti con la provincia per una struttura abbandonata da 40 anni. Lei sicuramente conoscerà Torre Bianca. Chi sia Presidente Emilio, la disponibilità di quell'immobile in due anni, oggi già su quella struttura abbiamo investito circa 4 milioni di euro, finanziamenti europei. Io ricordo infatti le telefonate quando ancora ero nel Palazzo del Sindaco. Bene, la tocca a lei. Allora questa provincia, che velocità le possiamo imprimere? Che nuova velocità? No, io, cioè, dobbiamo... Prima lei diceva che cosa pensano i candidati dell'ente provincia. Noi ci dobbiamo attenere a quello che è attualmente l'ente provincia. Però questo non significa che noi con l'ente provincia non dobbiamo poter programmare. Io immagino la provincia come un ente non solo di rappresentanza, ma anche di, diciamo, di coordinamento. Perché credo che la maggior parte dei piccoli comuni hanno bisogno della struttura tecnica della provincia. Quindi una volta che tu ti rivolgi alla provincia, piccolo comune, trovi una struttura a cui bisogna ridare dignità. Prima parlavamo con i rappresentanti degli impiegati della provincia i quali si sentono un po' così, diciamo, poco coinvolti. Ecco, per esempio, questo potrebbe essere il modo per poter coinvolgere le professionalità che sono presenti all'interno della provincia, diciamo, coinvolgendo i comuni piccoli. Perché spesso i comuni piccoli hanno questo deficit di non avere strutture tecnico-amministrative in grado di poter risolvere questi problemi. Spesso presentano dei progetti a livello regionale e quindi europeo e si trovano nelle condizioni di dover rincorrere o comunque di dover collaborare con altri comuni per poter fare l'ordinario. Ecco, io credo che la provincia in questo momento, siccome questo non è giusto, è un ente ibrido, debba fungere da supporto in modo che le professionalità e tutto ciò che gravita intorno all'ente possa, diciamo, ridare luce. Perché non è giusto. O le chiudiamo definitivamente e quindi chi governa questo paese si assume la responsabilità di chiuderle definitivamente e quindi di trasferire in enti comunali o altro le professionalità che ci sono all'interno delle province oppure gli si deve ridare dignità. Io ho letto che il governo Gentiloni aveva stanziato un miliardo di euro per cercare di ridare alle province questa, diciamo, nuova opportunità. Adesso bisogna vedere con la nuova finanziaria, con il nuovo DEF cosa succede per le province dopodiché ragionare. Però c'è un aspetto che bisogna considerare. La passata amministrazione provinciale diciamo, si è trovata in un momento in cui non sapeva cosa sarebbe accaduto dopo. Quindi in questi quattro anni c'è stato così una sorta di disorientamento. Invece adesso credo e io spero e se gli amministratori e i sindaci di questa provincia mi daranno l'opportunità io mi batterò affinché la provincia di Foggia funga da coordinamento e rappresentanza. Perché a noi manca questo. Noi abbiamo un territorio che è straordinario dal punto di vista delle bellezze naturali però manca qualcosa che funga da coordinamento. Ma che possa dire in altri livelli e in altre situazioni dire la provincia è questa. Ha queste caratteristiche, ha queste bellezze e noi abbiamo bisogno di tante cose. Quindi come vedete amici telespettatori ambe i due candidati hanno in animo di restituire il ruolo di ente intermedio alla provincia anche perché loro non ve lo dicono ci mancherebbe sono sindaci però è molto diffuso il principio che probabilmente le province potevano restare al loro posto mentre le regioni che avevano e hanno fatto schizzare il debito pubblico nel nostro paese forse avevano bisogno di un supplemento di riflessioni. Ma non mi voglio fare troppi nemici tra i consiglieri regionali più di quanti già non ne abbia oggi parliamo della provincia. La provincia che è comunque un ente di prossimità perché comunque lo sentivate prima anche da Gatta quando rafforzava il principio della territorialità dell'identità per usare le sue parole ci sono tre aspetti fondamentali ne parliamo spesso con i colleghi la viabilità è stata citata la vicenda delle strutture scolastiche perché queste sono le competenze e poi ci sono come dire un'azione di collegamento anzi di un'attività ricognitoria di tutto il territorio per fare sistema in questi anni e arriviamo arrivo alla domanda che pongo ad entrambi ecco in questi ultimi anni fatto salvo il disorientamento di cui ci ha parlato il sindaco di San Marco come ritenete abbia lavorato la provincia guidata da Francesco Miglio al secolo presidente della provincia Nicola Gatta non le chiedo di dare un voto perché so che ha ultimi rapporti con tutti assolutamente ha lavorato in un momento difficile come diceva anche Michele prima però adesso bisogna guardare avanti voltare pagina non fare quello che diceva Michele rappresentanza bisogna fare programmazione progettazione oggi senza una programmazione è difficile ottenere finanziamenti non in più come una volta bisogna lavorare sulla tecnostruttura tenere una stazione unica appaltante che diventa troppo spesso zavorra di tutta una serie di opportunità di finanziamento di finanziamenti quindi va ragionata va potenziata dobbiamo capire come poter fare poter potenziare questa questa macchina burocratica ma lo si deve fare perché se no non ha più senso immagino anche uno sportello per quanto riguarda i finanziamenti europei ho sentito troppo spesso parlare di gestione per quanto mi riguarda non mi interessa parlare di gestione di finanziamenti che già ormai sono stati ottenuti dalla provincia dobbiamo guardare ad altri ulteriori finanziamenti che potremmo che potremmo ottenere quindi come diceva Michele rappresentanza non è così la provincia deve giocare un ruolo strategico deve interagire con tutta una serie di attori principali senza alcun dubbio i comuni ma con la camera di commercio con immagino il consorzio di bonifica e i consorzi di bonifica anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali di valorizzazione di quello che è il nostro paesaggio di quello che è il nostro territorio anche e soprattutto ai fini turistici e agricoli quindi questo è quello che secondo me va fatto guardare la provincia come un ente strategico per poter programmare e progettare lo sviluppo del nostro territorio lo dicevo prima è da oltre 40 anni che non si realizzano opere strategiche nel nostro territorio noi abbiamo sete di infrastrutture nel nostro territorio eppure chi ha governato questa provincia è responsabile di aver bloccato una serie di finanziamenti ne vogliamo parlare per quanto riguarda il patto della Puglia abbiamo delle risorse lì ferme e questo è davvero qualcosa di anacronistico quindi la priorità la mia prima priorità è quella di far ripartire quel tavolo con tutti gli attori e far ripartire tutte le iniziative che sono state diciamo programmate e lì dove qualche iniziativa qualche progetto che non è più realizzabile perché forse probabilmente tre anni fa quattro anni fa poteva essere cantierabile quell'opera oggi non più cantierabile dobbiamo avere anche la responsabilità di riprogrammare quelle risorse ma di non perderle e qui c'è la responsabilità tutta tutta all'interno del partito democratico di rischiare di perdere quelle risorse finanziarie miglio ha sentito l'affondo iniziale su miglio mi sembra anche parecchio inglese da parte di gatta perché anche se poi c'è questa chiosa sul partito democratico ovviamente alcune delle questioni che sono venute in superficie sono cronaca dei nostri giorni sono l'amara verità come mai poi di tutti questi finanziamenti alla fine il patto per la Puglia che io ho seguito sto seguendo questa storia di fatto rimane una sorta di libro dei sogni ma di concreto non c'è ancora nulla le sa queste cose lei vero Merla? io le so e credo che non sia diciamo giusto attribuire colpe in questo momento io l'ho detto prima la programmazione per un ente è una programmazione che ha bisogno dei tempi il sindaco sa meglio di me il sindaco il mio amico Nicola sa meglio di me che quando metti diciamo quando devi programmare e poi devi realizzare io credo che invece il governo miglio ma non perché per partito diciamo è una persona è un amministratore bravo e credo che abbia fatto il proprio dovere insieme ai tanti amministratori che ci sono stati in questi quattro anni però entriamo nel merito della questione 200 milioni di euro per il subappennino non credo che siano stati una cattiva idea adesso è chiaro che bisogna che quei 200 milioni di euro per il patto per la Puglia siano messi sul campo cioè nel senso che noi dobbiamo capire che la viabilità sul subappennino è una cosa che è strategica per quello che dicevamo prima io non ho parlato di ente provincia come ente di rappresentanza io ho detto che potrebbe assumere anche la funzione di rappresentanza però deve l'ente provincia deve caratterizzarsi per i quattro aspetti per cui come dire loro sono le province sono in piedi quindi viabilità trasporti ambiente e scuola però questo questo spesso cozza con i tempi della burocrazia perché se e prima lo sentivo anche dai rappresentanti degli impiegati perché se tu per molti anni per uno due tre anni continui a dire che l'ente provincia non serve a nulla che prima o poi la chiudiamo che quelli che ci lavorano sono persone che non dovrebbero avere il diritto e la dignità di stare nel loro posto allora è chiaro che anche il tutto si complica però io credo che la provincia in questi quattro anni guidate da Miglio hanno fatto il proprio dovere di programmazione io per esempio nella mia città adesso sono destinatario di un provvedimento sulle strade che è un provvedimento frutto della programmazione del governo Miglio sul Gargano e anche sul subappennino io per esempio nella mia città due strade importanti due snodi importanti ma anche per San Giovanni d'Otomio io avrò circa due milioni di euro per mettere in sicurezza le strade poi dobbiamo invece parlare anche dei trasporti questa è una provincia che soffre da questo punto di vista cioè il trasporto pubblico deve avere un maggior coordinamento cioè noi dobbiamo parlare anche di queste cose perché io sono convinto che raggiungere il subappennino per un camminatore per un turista che viene e arriva a Foggia raggiungere il subappennino a prescindere e soprattutto per la questione strade che è una questione abbastanza scandalosa e su cui credo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi però dobbiamo dire che sul subappennino si può arrivare e cosa dobbiamo andare a vedere e soprattutto noi dobbiamo mettere in condizioni quelli che arrivano che sul subappennino e sul gargano lo si raggiunge in un certo modo diciamo questo è il senso del mio discorso sulla rappresentanza però ripeto io credo che io credo che con tutte le difficoltà possibili e immaginabili io credo che il governo Miglio insieme a tanti rappresentanti della provincia abbia fatto quello che il contesto storico e politico e amministrativo poteva fare grazie Merla dunque adesso cerchiamo di entrare nell'ultima parte della trasmissione un po' più dentro alle cose e alle persone perché poi bisogna parlare dell'uomo che arriva o può arrivare a guidare un palazzo così importante intanto Claudia Villani ci ricorda quali sono i compiti le competenze le cose che può o dovrebbe fare la provincia oggi questo eservizio la legge numero 56 del 7 aprile 2014 disposizioni sulle città metropolitane sulle province sugli unioni e fusioni di comuni legge del Rio entrata in vigore l'8 aprile 2014 ridisegna organi e competenze dell'amministrazione locale provvede in attesa di una più sistematica riforma del titolo quinto della costituzione a ridisegnare l'assetto delle province stesse configurandole come enti territoriali di secondo livello titolari di funzioni fondamentali specifici settori e ad istituire contestualmente le città metropolitane come nuovi enti di governo delle grandi aree urbane dotati di funzioni proprie di programmazione e gestione del territorio la riforma prevedeva fino al 31 dicembre 2014 una fase di accompagnamento per nove mesi le giunte provinciali hanno continuato ancora a operare e dal primo gennaio 2015 la riforma è entrata ufficialmente in vigore liberando di conseguenza gli enti delle funzioni più rilevanti le province sono dunque inalterate del numero 107 su tutto il territorio nazionale gli organi che le compongono sono il presidente della provincia il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci tutti incarichi a titolo gratuito il presidente della provincia che ha la rappresentanza dell'ente convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci e sovrintende al funzionamento degli uffici i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia lo eleggono con voto ponderato vale a dire con un voto commissurato al numero degli abitanti del proprio comune possono essere eletti presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni il presidente eletto con il maggior numero di voti ponderati resta in carica 4 anni e decade automaticamente in caso di cessazione della carica di sindaco il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e dei consiglieri svolge funzioni di indirizzo e controllo approva regolamenti piani programmi propone lo statuto e ha poteri decisionali in merito al bilancio il consiglio provinciale dura in carica due anni e viene eletto anch'esso con voto ponderato dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia anche per questa carica atteso che possono essere eletti consiglieri provinciali solo i sindaci e i consiglieri comunali e solo per questa tornata elettorale anche i consiglieri provinciali uscenti è prevista la decadenza in caso di cessazione della carica di consigliere comunale l'assemblea dei sindaci composta dai sindaci di tutti i comuni della provincia e il nuovo organo introdotto dalla riforma l'assemblea adotta il nuovo statuto della provincia e ha potere consultivo nell'iter di approvazione dei bilanci la nuova legge attribuisce alle province a statuto ordinario come la nostra le seguenti funzioni fondamentali pianificazione territoriale provinciale di coordinamento tutte le valorizzazioni dell'ambiente in concorrenza con le regioni pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato costruzione e gestione delle strade provinciali programmazione provinciale della rete scolastica di istruzione superiore e gestione dell'edilizia scolastica raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale ecco siamo tornati in studio avete ascoltato al netto di tutte le cose che ci ha raccontato Claudia Villani ci sono due questioni che voglio mettere in evidenza la prima conta soprattutto e soprattutto il presidente anche le deleghe che vengono sono atti come dire discrezionali del presidente che la legge non prevede perché il presidente può alla facoltà quindi l'idea di rimettere in piedi con delle astuzie volpini un po' di giunti un po' non risponde al dettato della legge che vuole un presidente al governo dell'ente questa è una delle cose poi l'altro aspetto non dimentichiamo che la provincia di Foggia Gatta è la seconda provincia d'Italia per estensione territoriale quindi parliamo di un bacino importantissimo tra costa mari monti la piana come dicono a Cerignola la piana quindi è importante avere anche diciamo un profilo di competenza lei ha detto una cosa che mi sembra interessante Gatta poco fa il senso di lo dicevo lo richiamava anche Merla questo senso di scoramento che ha vissuto la tecnostruttura in un momento di così grande difficoltà giuridica come pensa di poter motivare lei fa un imprenditore nella vita però come pensa di poter motivare un personale che sa di lavorare in un ente dimezzato prossimo all'impiccagione secondo quelle che sono le risultanze del legislatore del tempo andato prego come dicevo prima con la collaborazione fattiva con i comuni quindi anche attraverso l'istituto del 110 con la possibilità di reperire risorse anche in altri enti ad esempio Camere di Commercio enti pubblici dovremmo studiare un po' come sta messa la pianta organica capire se ci può essere la possibilità anche di poter perché no anche assumere nuove figure non dico cose cose strane cioè dovremmo appunto studiare vedere di mettere su una strategia per poter rilanciare le province come per esempio penso e non ci dobbiamo anche scandalizzare rispetto all'abbandono come dicevo prima delle strade noi non conosciamo la vera realtà amara del nostro territorio ci sono strade completamente chiuse con completamente abbandonate senza alcuna manutenzione ordinaria che basta poco basta poco io so che nel parco macchine della provincia ci sono due trattori ma bisogna partire anche dalle piccole cose abbandonate che potrebbero essere messi in funzione e fare la manutenzione ordinaria con il discorso anche del reddito di cittadinanza possiamo anche pensare perché no al vecchio cantoniere per la manutenzione ordinaria può essere anacronistica sta cosa ma ripeto o l'amministrazione viene amministrata con un piglio diverso e con anche un pizzico di creatività altrimenti saremo nuovamente costretti ad assistere quello che purtroppo non per responsabilità di Miglio ma troppo spesso Miglio è stato ostaggio anche di come dire alcune componenti diciamocelo quando sento che io sarei il candidato della Lega Miglio ti voglio ricordare caro Michele amministra con un consigliere delegato della Lega cioè quindi noi dobbiamo amministrare la provincia la dobbiamo amministrare insieme la dobbiamo amministrare anche bene quindi rilanciando appunto come vi dicevo prima queste competenze ma la dobbiamo fare con determinazione andare in provincia giusto per mettersi la fascia a me non piace quindi io voglio amministrare la provincia così come sto amministrando Candela un piccolo comune che ha avuto la fortuna di avere una serie di amministrazioni che gli hanno dato diciamo la possibilità di andare oltre i confini provinciali regionali e nazionali no io non la voglio buttare in politica perché non credo che sia il caso poi ci penso io non credo che sia il caso di buttarla in politica perché poi bisognerebbe ragionare su tante cose però per esempio sulla questione che poneva anche il mio competitor Gatta sulla questione delle strade le strade sono effettivamente abbandonate però c'è un aspetto io vorrei chiedere noi abbiamo a livello provinciale abbiamo la polizia provinciale noi vediamo che soprattutto per chi come il mio comune fa la differenza non è più di competenza provinciale no no aspetta 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 fammi finire io noto questo noi facciamo una raccolta differenziata io quando mi sono insediato avevo due problemi avevo il dissesto economico e finanziario lo abbiamo superato approvando in due anni sei bilanci adesso il ministero degli interni ci ha certificato il nostro bilancio ristrutturato economicamente e finanziariamente e poi avevamo un altro problema la raccolta differenziata l'abbiamo trovata ad una percentuale dell'11% adesso siamo intorno al 60% però notiamo anche questo che quella parte dei cittadini che non riescono a fare la differenziata perché mentalmente non la vogliono fare che fanno riversano sulle strade e soprattutto sulle strade provinciali sulle arterie dove facendoci fare anche una brutta figura con chi viene da fuori dalla Puglia allora noi dobbiamo trovare il modo la polizia provinciale io sono d'accordo con te quando dici ma non hanno più la competenza adesso è la regione che li gestisce ma noi abbiamo quelle persone che io ho sentito queste persone che sono sinceramente mortificate dal fatto che dalla mattina alla sera non possono fare nulla allora quel tipo di personale qualificato perché non farlo ritornare a fare vigilanza sul territorio e quindi riqualificare e come dire ridare dignità al personale provinciale quindi io sono d'accordo con te quando tu dici bisogna come dire ridare fantasia ad un ente che soffre dal punto di vista giuridico le situazioni le dobbiamo trovare e si possono trovare e non bisogna aspettare il reddito di cittadinanza perché il reddito di cittadinanza diciamo potrebbe anche non essere parato per i tanti problemi il reddito di cittadinanza non sta nel BEF sindaco tu lo sai infatti il reddito di cittadinanza deve essere fatto attraverso un allegato che ancora quindi ma noi 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 non stiamo qua a fare se lo faranno non lo faranno però attualmente il reddito di cittadinanza ce lo devono ancora diciamo mettere per iscritto non c'è nel DEF però questo è il senso diciamo di un ente che soffre ecco perché ritorno un po' a quello che dicevamo prima non mi sento di dare responsabilità a chi ha governato questa provincia nel passato perché anche per il ragionamento che facevi tu no? adesso ci sta questo della Lega perché probabilmente quello della Lega quattro anni fa non stava con la Lega poi per una ragione diciamo di opportunità politica magari è passata dall'altra parte però c'è questa necessità e questa opportunità io mi batterò perché la provincia si occupa di quello che si deve occupare e un'altra cosa io ho visto nella mia città la tecnostruttura della provincia venire e chiedermi tutte le mappe di tutti gli istituti superiori della mia città credo che come l'ha fatto nella mia città l'abbia fatto in qualsiasi altra città e paese della provincia io credo che c'è una bella programmazione adesso dobbiamo essere bravi a tirare fuori quella programmazione e attuare ma questo se lo augurano sicuramente tutti due riflessioni intanto non vorrei che passasse l'idea di un processo a Miglio Miglio è stato è stato detto ha fatto il massimo sforzo nel massimo consentito per me Miglio ha fatto il presidente nel periodo peggiore della vita delle province e lui attuava se posso permettermi lo dico lo faccio con simpatia una tattica particolare quando la situazione era molto complicata spariva cioè in pratica lasciava il campo e questa è stata una grande come dire tattica non propriamente di sinistra molto democristiana devo dire quella di abbandonare il campo quando la difficoltà era elevatissima Miglio è stato bravo e di fatto è stato anche un po' come dire al centro di contumelie interne di maggioranza come veniva qui mi pare anche richiamato prima cosa certo quindi è stato un bravo presidente ovviamente ci sono stati altri presidenti mi torna in mente Antonio Pellegrino se posso permettermi che si reinventò il ruolo delle province ma erano altri altri tempi c'erano altre risorse e c'erano se mi permettete altri uomini detto questo la nostra trasmissione si conclude con una riflessione che non possiamo fare altrimenti che strano paese è una riflessione di ordine politico avrete colto e se non lo avete fatto vi ci aiuto io scusate l'impertinenza che il candidato Gatta ha un profilo più stemperato politico della serie più civica più cittadinanza attiva mentre qui c'è come dire avete sentito la timbrica propria della politica di filiera di partito di appartenenza di identità diciamo quindi che sotto questo aspetto già comincia a venire fuori qualche lieve differenza sul piano temperamentale la domanda che voglio fare anzi la faccio per a Merla poi facciamo chiedere al Gatta perché altrimenti sembra studiata la cosa intanto questa io la devo fare questa domanda parte della sinistra non si è piccola parte della sinistra i cespulli non si sono riconosciuti perché Merla? non si sono riconosciuti e qui noi credo che abbiamo commesso un piccolo errore a cui bisogna rimediare c'era anche l'autocritica sono contento di questo prego a cui bisogna rimediare e credo che lunedì ci sarà un incontro con i gruppi politici che guardano al centro-sinistra credo che la cosa abbia un po' la questione diciamola perché insomma tutti sanno è inutile che bisogna parlare il politichese la questione diciamo questo rapporto di gioia ai civici con il PD ha un po' come dire distratto il PD perché il PD io credo anche giustamente si senta un po' ferito da questo atteggiamento io non so e non ho nemmeno non mi passa nemmeno per l'anticamore del cervello pensare che quello che dice di gioia non sia vero di gioia dice io non ho la possibilità in questo momento di schierarmi e quindi lascio campo libero a chi si riconosce insomma in questa visione civica della provincia di Foggi io non ho nessun diciamo timore a pensare che sia così però credo che questo non considerare sbagliando un'altra parte della sinistra sia stato un piccolo errore e a cui noi tutti io ho già parlato perché mi è stato detto da parte del gruppo dirigente provinciale che lunedì ci sarà questo incontro per cercare di capire le ragioni di tutti e cercare di coinvolgere le ragioni di tutti però mi devo ti devo ci diamo del tu perché ci conosciamo sicuramente sulla questione dell'appartenenza politica ieri sera io ho avuto il piacere e l'onore di ascoltare il ministro dell'interno ex ministro dell'interno Marco Minniti per ragioni di appartenenza io credo che sia stato forse negli ultimi trent'anni il miglior ministro degli interni che questo paese abbia avuto quindi spesso essere o appartenere ad una famiglia politica credo che sia anche come dire ragione di di cultura di appartenenza e anche di buona amministrazione sicuramente per carità anzi il senso di appartenenza soprattutto nel momento in cui sono crollate le ideologie gatta la domanda a metà è già arrivata per posta pneumatica da Michele Merla cioè in pratica lei mi ha dato quasi l'impressione in questa candidatura di essere molto distante dal tavolo dove si decidevano le cose anche perché ogni giorno il pallottoliere cacciava un nome cacciava un nome però il suo era sempre sul tavolo era come la gatta sul tetto che scotta lei se la ricorda questa lei non ha chiesto di essere candidato diciamo che l'hanno candidata in questa dimensione ecco come crede di poter ha sentito contemperare anche coloro i quali non avevano o avevano altre idee perché lei poi alla fine diciamo forse è l'unico candidato del centrodestra che non aveva chiesto né premuto per correre la partita o sbaglio no assolutamente non l'ho cercata la candidatura c'era come dicevo prima c'è stata questa grande richiesta da parte dei sindaci dei Monti Dauni dei piccoli comuni appunto di chiedere alla politica provinciale questa candidatura di un sindaco dei piccoli borghi la mia appartenenza è nota a tutti di centrodestra quindi io provengo l'unica tessere che ho avuto è stata quella a 18 anni della democrazia cristiana di questo deve andare e sono orgoglioso sono orgoglioso e poi Forza Italia quindi lo sanno bene anche gli amici del PD il buon Raffaele Piemontese che due anni fa mi chiese di sostenermi e io capì le difficoltà in quel momento del PD e dissi bene lavoriamo tutti insieme per un progetto a candela istituzionale oggi vedo purtroppo ahimè una posizione consentimi caro Michele autoreferenziale perché il mio nome è stato anche proposto se non erro in un'ipotesi di candidatura istituzionale più allargata anche da parte del PD poi per giochi interni di botteghe forse non si è preferito e si è preferito andare verso una candidatura come diceva il direttore di bandiera ma dopo il 31 dopo il 31 dopo il 31 io sono pronto va bene ti voglio ricordare Michele che Piemontese due anni fa ha sostenuto la mia candidatura ha sostenuto la mia candidatura scusami ricordo ricordo ed eri presente perché comunque mi è stato riferito che è stato portato al tavolo del PD la proposta quindi di una possibile candidatura mia istituzionale con l'appoggio del PD quindi poi avete fatto questa scelta non ti ho interrotto avete fatto questa avete voluto fare questa corsa solitaria bene ma penso che questo diciamo anche questa dialettica ci sarà fino al 31 di ottobre poi per quanto mi riguarda come ho sempre fatto curerò quella filiera istituzionale che è come dire la mia stella polare per amministrare nei migliori dei modi cercherò di amministrare nei migliori dei modi l'amministrazione provinciale non era molto d'accordo su questa lettura no io questa questione della figura istituzionale tutti insieme non è stata diciamo così passata serve maggioranza ma soprattutto servono in Italia dobbiamo capire in provincia di Foggia dobbiamo capire che c'è una parte che deve governare e una parte che deve controllare una parte che ha delle idee e una parte che non ha adesso avviene in provincia ma in provincia è un altro discorso in provincia è un altro discorso in provincia è un altro discorso prima lo diceva il nostro amico vi siete distratti ora quello che avviene non ci siamo distratti non ci siamo distratti il consesso provinciale però ti prego devi essere anche devi essere anche coerente con quello che dici no? perché due anni fa due anni fa l'appoggio del partito democratico ti è come dire ti è servito perché hai fatto una campagna elettorale in solitaria avrei vinto guarmente come si dice la pubblicità ti piace vincere facile sono stato da soccorritori non è così e questa volta non c'era bisogno del soccorritori come vedete l'appartenenza in zona cesarini poi si sono accese no no ma è giusto che sia così perché altrimenti guardate la politica sarebbe una noi una morte civile e noi così non vorremmo noi siamo contenti anche perché ma ve lo dico al di là del ruolo della funzione che svolgo in questo momento di avervi dato l'opportunità di conoscere anche se sono ben conosciuti due proposte di assoluto disincanto e pregio due giovani protagonisti della nuova politica della nuova politica e questo è già un bene evidentemente la politica poi non è tanto peggio o meglio non sta messa poi così male come si pensa perché le proposte entrambe le proposte credo riscontrino in buona parte una speranza un'aspettativa il bisogno di un domani migliore più di tutti lo sanno chi vive sulla propria pelle ogni giorno la vita della provincia che è un ente molto bello va recuperato è stato detto va rilanciato va restituito un po' d'amore a questo palazzo che da molti è stato usato e da qualcuno anche abusato io posso assicurarvi che ho vissuto molto bene questo palazzo l'ho molto amato e lo porto ancora nel cuore perché la provincia è una bellissima istituzione in disparte lasciamo tutte le contumelie sugli schieramenti trilateri perché qui c'è poi sempre chi fa il doppio gioco il triplo e il quadruplo gioco ma questo non lo avete sentito in questo studio perché accade nella politica che non vi raccontiamo perché è un altro tipo di politica termina qui strano paese e noi ci rivedremo prossimamente su questi schermi auguri a Nicola Gatta Nicola Gatta oggi sindaco di Candela e chissà se domani presidente della provincia o a Michele Mella che potrebbe guidare lui Palazzo Dogana oggi sindaco di San Marco in Lamis due proposte due carte da giocare due carte da scoprire e da investire per la provincia di Foggia grazie per essere stati con noi arrivederci clientelismo e speculazione di Amiceato si muore ancora si muore ancora per l'onore violato per l'onore di qualche signora di San Marco di San Marco di San Marco